Iniziare a portare le lenti a contatto ora sarebbe come provare a fare karate o qualcosa di simile. Mi sento un po' vecchia per iniziare questo tipo di cose. Qualche volta sì, ho problemi a leggere, scrivono le cose veramente troppo piccole. Mi chiedo, ma quando hai iniziato? A volte faccio una foto con il telefonino e la ingrandisco così. Non sono sicura che le lenti a contatto siano adatte al mio problema di vista. Le persone possono portare le lenti a contatto a tutte le età. La presbiopia è un cambiamento naturale dell'occhio. Se hai problemi a vedere in modo chiaro da vicino, ci sono delle lenti a contatto multifocali. Le lenti a contatto sono morbide, confortevoli e flessibili. Possono darti la libertà di visione a tutte le distanze. Visione da lontano, da vicino a intermedia, senza occhiali.